Non ho mai voluto tutto questo. Non volevo essere nei giochi. Volevo solo salvare mia sorella. E che Pita vivesse. Signorina Everdeen, sono le cose che amiamo di più. A distruggerci. Voglio che chi ci sta guardando deponga subito le armi. Sei vivo. Pita è l'arma di Capitol City. Così come tu sei la nostra. Dovrete liberare Pita alla prima occasione. O trovatevi pure un'altra ghiandaglia imitatrice. O trovatevi pure un'altra ghiandaglia. 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 O trovatevi 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 un'altra ghiandaglia. Grazie a tutti.